Dopo gli anni bui della crisi, l'economia della costa toscana sta migliorando anche grazie agli investimenti sulla logistica e le infrastrutture programmati dalla regione toscana. Dalla Darza in Europa di Livorno ai porti di Piombino e Carrara. Si tratta di 3 miliardi di euro in grado di creare negli anni 58 mila posti di lavoro. A dirlo sono i dati dell'ultimo rapporto IRPET presentato a Pisa dal presidente della regione Enrico Rossi. Il 2018 è stato l'anno della ripresa sul fronte dell'occupazione aumentata dell'1,4 per cento nelle province toscane costiere contro lo 0,7 per cento del dato regionale. Resta l'handicap dei collegamenti stradali come la Tirrenica e la Fano Grosseto, nodi strategici a tutt'oggi risolti dai governi nazionali. Quindi da un lato è la presa d'atto che il lavorare paga, il lavoro paga, ha consentito di non solo frenare l'emoragia ma addirittura cominciare a recuperare. Anche l'indicazione è che se continueremo a lavorare così nei prossimi anni questa differenza si può recuperare fino in fondo perché ci sono grandi potenzialità di sviluppo sulla costa. Non ultima tra queste è il turismo su cui anche qui come tutti sanno la regione è stata protagonista insieme a tutti gli operatori in maniera importante. Lo studio IRPET indica che sono stati recuperati già 2 mila posti di lavoro sui 18 mila che rappresentavano il gap tra la costa e il centro della Toscana. Noi sappiamo che si deve fare molto di più. Per farlo bisogna far partire le grandi infrastrutture, i lavori alla Darsena Europa, la Tirrenica, il collegamento tra la costa e il centro ferroviario, tra la costa e il centro della Toscana. Non appena partiranno saranno 5 mila posti di lavoro in più nei cantieri ma soprattutto a regime 7 mila posti di lavoro in più. Dei 9 mila secondo cui crescerà la Toscana nei prossimi anni, 7 mila saranno sulla costa della Toscana. Secondo i dati dell'IRPET, al termine degli interventi programmati dalla regione in Toscana, nelle province della costa rimarranno a regime 6 mila posti di lavoro in più.